Ciao a tutti ragazzi, in questa video lezione vogliamo risolvere il seguente esercizio. Determinare le equazioni delle rette tangenti all'ellisse di equazione x quadro più 4y quadro uguale 4 parallele alla retta di equazione x più y meno 2 uguale a 0. Cominciamo innanzitutto a scrivere la nostra retta in forma esplicita. y uguale 2 meno x. Il coefficiente angolare di questa retta è m uguale meno 1. Infatti il coefficiente che precede è la x. Ogni retta parallela alla retta data avrà equazione del tipo y uguale meno x più q. Infatti tutte queste rette hanno lo stesso coefficiente angolare meno 1 meno x più q. Ovviamente al variare di q varierà la retta. Ciò che dobbiamo fare è proprio determinare il valore di q. Mettiamo quindi a sistema questa equazione generica con l'equazione dell'ellisse. x al quadrato più 4y al quadrato uguale 4. Sostituendo la prima equazione nella seconda otteniamo x al quadrato più 4 per y al quadrato. Ma y è uguale a meno x più q, quindi tutto questo al quadrato, uguale 4. Da qui otteniamo x al quadrato più 4 che moltiplica. quadrato di binomio x al quadrato più q al quadrato meno 2q per x meno 4 uguale a 0. Andiamo avanti nei nostri calcoli. x al quadrato più 4x al quadrato più 4q al quadrato meno 8q per x meno 4. Ho semplicemente svolto il prodotto tra il 4 e ciò che compare all'interno delle parentesi tonde. Tutto questo uguale a 0. Ordiniamo adesso l'equazione ed otteniamo x al quadrato più 4x al quadrato, quindi 5x al quadrato meno 8q per x più 4q al quadrato meno 4 uguale a 0. Dobbiamo adesso porre pari a 0 il delta di questa equazione, anzi, visto che il coefficiente della x è pari, il delta quarti di questa equazione. Possiamo quindi scrivere 4q al quadrato, quindi meno b mezzi al quadrato, meno a per c, quindi meno 5 per c. In questo caso il nostro termine noto è 4q al quadrato meno 4, quindi 4q al quadrato meno 4. Tutto questo uguale a 16q al quadrato meno 20q al quadrato più 20 uguale a 0. Da questa equazione otteniamo meno 4q al quadrato meno 20, quindi q al quadrato uguale a 5. I due valori cercati per la q sono più o meno radice quadrata di 5. Ricordiamo adesso l'equazione della nostra retta generica. Talla equazione era y uguale meno x più q. Sostituendo una volta più radica al 5 e una volta meno radica al 5 all'interno di questa equazione otteniamo y uguale meno x più radice di 5 e y uguale meno x meno radice quadrata di 5. Queste due sono proprio le equazioni delle rette tangenti all'ellisse parallele alla retta iniziale data. Bene ragazzi, per quanto riguarda questa videolezione non c'è altro. Sperando che sia stata chiara, vi ringrazio per averla seguita. Grazie.